parte la registrazione del gameplay con il traditore mccallan dalla parte di là ma non è solo il traditore yoshi ma il mccallan in questa mappa non c'è mai punto di controllo e perché non state a più ai punti di controllo e perché non sono entrato io c'ho la lingua del titano di controllo è che bello quando 10 maschina perché non ha sotto sta mappa punti di controllo è la prima volta che voleva uscire a cattone era yoshi era lui che voleva uccidere a cattone di soppiato morta al traditore morte al traditore no bello un po di clay marone ma chi è che mi spara? come assisti? chi è se fai la mia kill? siamo in squadra dai non preoccuparti ah e vabbè cazzo di sacchi di farina no guarda che culo sto che è orsù mortato se 19 colpi per ucciderti e ti ho preso pure più da ballerino 75% e non cometi il colpo segreto del drago nascente ma signor nooo se che è un soldato dopo un colpo no vince a cattone occhio a questo spirlozzo fa bene e vabbè è morto è morto? basta è morto stiamo sparando a noi nel caso non l'aveste capito stavo in freddo sul cadavro stiamo leggermente a prendere il culo a yoshi oh e di ci fai everybody sing that song duda duda c'è la panela non ce l'hai di chi è quel titan? di chi è quel titan? di chi è quel titan? uccidete il pilota uccidete il pilota uccidete il pilota uccidete il pilota non è che sono troppo veloce bravo ah 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 abbiamo preso Charlie ma andando anche meglio di prima ben fatto squadra continuate così ok ok nooo c'è mister donna kebab che sta scappando prima via dove vai donna kebab dove vai? dove vai donna kebab non mi piace per niente dobbiamo prendere dei punti di controllo nooo nooo madonna è tuo tiralo fuori di lì aspetta guarda perfetto guarda perfetto guardi qui c'è troppo un up ho preso Yoshi sfrannicato dagli ai aiaiai ma prendiamo p? porta eva Yoshi eh, faci pure te dove vai là dentro? non c'è salvezza per te non c'è salvezza per te è libero C, è tranquillo oh c'è il lollo pure ce l'ho e che fottura kill oh ah ci andiamo a spiarlo stiamo spiacciando non bollate rock and roll sto distanziando l'IMC sempre di più ben fatto capo il pilota è il meglio di tutte le altre squadre speciali del senso quanta per cento cazzo 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 vai mi ucciso ma no che cazzo stai a fare eh 8 dietro no che cazzo cazzo è mille mio dove cazzo stai eccolo eccolo vai Yoshi clasterato, ratorato. Vai scappa Rina, scappa. Non ti preoccupare, ti aiuto io. Eh eh. Morte ai traditori. No, voi siete i traditori. Dai che rilasciamo a 135. Oh, ho visto uno. Sì. Uccidile. E che cazzo sta? Eppure il secondo? Sta là dentro, lo sopporto. Oh, ciao bel pilotino. Dove pensavi di scappare? Fammi un po' vedere. Vabbè, io tanto ormai. Eh no. Bene, guarda. Mi posso mettere che la faccio? C'è lì un titan che sta per aprire. E poi uccido anche te. E poi mi vado a fare quel titan che ho lasciato lì in sospeso. Eh? Eh? Ecco l'ho fatto. Uh, c'è un pilotino qui. Eh no! Sì, un bel caccione in faccione. Sto bloccando il titan. Rilevo ancora dei piloti MC nell'area. Falli fuori prima che raggiungano il punto di vacanza. Eh ragazzo, ho casciato. Il mio titan sta facendo il minuto. Vabbè, l'importante caccatore ha registrato. Sì. Che hai fatto? Ho fatto in particolare? Ah no, pensavo di essere crashato. L'ho fatta anche in grottante. Bene. Dai, dà fuori. Eh? 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 τε quella navetta nooo. Sono le botte che si prende! Dove e Yoshi? Non c'è più